L'obiettivo di questa esercitazione è la creazione di un nuovo intervento migliorativo e la stima dei tempi di ritorno dell'investimento. Dal punto di vista operativo identificheremo le proprietà muro, creeremo un nuovo intervento. Per quello che riguarda la stima dell'intervento faremo riferimento a questa analisi del costo, quindi un intervento di cappotto esterno con queste caratteristiche è stimato pari a 5.670 euro. A questo punto, doppio clic sull'elemento muro, associazione di un nuovo stile di isolamento. Ricordate, tipologia di muro, dettaglio degli elementi costruttivi. Verifica. Nello specchietto, ripilogativo, interventi migliorativi, cappotto, tempo di ritorno dell'investimento. 9 anni.